Buonasera a tutti, sono Luciano di Gabbura. Paffamabulo, porca troia, porca di quella troia. Che piano difficile, difficile, mi stavo a fare un cazzo. Sono in auto, sto telefonando, mi girano anche i coglioni, è un casino. No, scusate, ci sono sempre. Ah, dicevo che praticamente ringrazio quei ragazzi della Liga Boy Power Band, perché diciamo che loro sono dei ragazzi che sono bravissimi, che fanno i miei brani, i miei brani pieni di broccoli. No, i miei brani sono contento che portano a giro per tutta l'Italia la mia musica, e li ringrazio tanto, ringrazio lo Sbardella, ringrazio lo Scarfelli, ringrazio Jacopo e anche Francesco. Sono bravi, sono dei bravi ragazzi, mi piace l'idea che fanno i miei pezzi. So che hanno anche un loro progetto, ma non me ne fotte, ne merito a cazzo. Continuate ragazzi a fare i miei pezzi, non fossilizzatevi su progetti vostri, intanto è inutile, è inutile, diciamo, è molto difficile. Il mondo della musica adesso è un po' un casino, sfondare con dei pezzi nuovi un gruppo emergenti è praticamente impossibile. Quindi concentratevi molto sulle mie canzoni e continuate a suonare a Ciro le mie canzoni. Questo, diciamo, è proprio un consiglio che vi do adesso per non perdere troppo tempo nella vita. Ringrazio ancora, mi fa piacere di avermi chiamato, diciamo, in questa intervista. Ringrazio ancora, insomma, i miei ragazzi. Ci vediamo presto, ok?